Estendete le prestazioni del vostro trapano con l'ausilio dell'accessorio Heavy Duty Turbo Shear HD. Il morsetto viene fornito come opzione standard con questa accessoia robusta per operazione ad una sola mano. L'accessorio HD si inserisce direttamente nel mandrino di un trapano a 14,4 Volt o di dimensioni superiori sia cordless sia concavo. Il morsetto regolabile si adatta a qualsiasi alloggiamento motore. L'elegante testa leggera dell'accessorio in alluminio presso fuso assicura un facile controllo con una sola mano per tagliare acciaio galvanizzato fino a 1,3 mm di spessore e la maggior parte dei comuni metalli. Le ganasce, dalle aperture maggiori, possono affrontare le sezioni dei profili dei pannelli di rivestimento in metallo. Queste lame, dalle ganasce rinforzate, tagliano persino le costolature di metallo di un condotto a spirale da 1 mm.